Il capo alla moda che cercavo! E qui, al mercatino, l'ho trovato! Il mercatino da Forte dei Marmi, il più giovane consorzio della mitica Versilia. Sabato 23 marzo, per la primissima volta, arriva ad Ivrea, Torino. Il glamour delle nuove collezioni ti aspetta, dalle 7 alle 20, in piazza Viale Montestella. Il mercatino da Forte dei Marmi, pronti a sorprenderti!